Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 8 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. Sole e Mercurio possono creare tensione sul lavoro. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio e alla fine non riuscirete ad evitare una discussione. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma anche di pianificare con attenzione le cose da fare. Cancro nelle coppie di vecchia data sembra essere tornato il sereno e in caso contrario non prendetevela con il partner, nemmeno voi, sapete bene cosa volete. Leone, luna difficile, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine con cui continuate a difendere il vostro punto di vista. Ci vuole relax. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania e di ottenere subito dei risultati tangibili. In questo momento dovete armarvi di pazienza. Vi lancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. Siete sulla bocca di tutti, molti apprezzano il vostro modo di essere, non è escluso un passo avanti decisivo sul lavoro. Scorpione, giornata interlocutoria perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno molto. Piccoli problemi dovuti allo stress. Sagittario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui. Non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano. Cercate di essere più selettivi. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente professionale possono innervosirvi e preoccuparvi. Ma non dovete fidarvi dei pettegolezzi. Cercate di approfondire. Acquario, siete molto creativi. Riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono. E questo vi procura anche un certo successo sul lavoro. In amore vivete un momento di euforia. Pesci, la luna nel vostro segno in serata vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa e alla famiglia. Mercurio può portare delle novità in ambito professionale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.